La storica scuola di Amicis resta ingabbiata, è proprio il caso di dirlo, nelle beghe giudiziarie che finora l'hanno caratterizzata impedendone la ricostruzione. Nonostante i fondi a disposizione, questa mattina all'atto di consegna del cantiere, la seconda ditta esclusa, la MGM Construction, ha fatto trovare un lucchetto dinanzi la scuola. Si ritengono ancora proprietari del cantiere, impossibile entrarvi. La breve cerimonia alla presenza del provveditore Rapisarda di sindaco e vice sindaco si è svolta lo stesso, ma i tempi si allungheranno perché la ditta esclusa probabilmente si rivolgerà alla giustizia civile, mentre il provveditorato dovrà richiedere le chiavi. La MGM ha chiamato pure i carabinieri, una sorta di protesta pacifica che ha rallentato la tabella di marcia sul futuro intanto. Si sa che non sarà più una scuola, il comune probabilmente la destinerà a spazio culturale. Il cantiere, se vogliamo entrare in qualche dettaglio in più, gli era stato richiesto all'impresa che è qui a esprimere pubblicamente le sue doglianze. Noi capiamo la sua posizione, ma noi dobbiamo purtroppo procedere sulla base degli atti amministrativi in nostro possesso. A tutt'oggi la giustizia amministrativa ha concluso il suo escurso, cioè alla fine di questi cinque passanni si è dichiarata incompetente sull'argomento, per cui chi ha doglianze da fare sul tema potrà per l'appunto rivolgersi alla giustizia civile a questo punto. Noi dobbiamo comunque riprendere il procedimento laddove era stato interrotto cinque e passa anni fa. Nelle more il cantiere potrà andare avanti, intanto è ovvio che dovrà tornare in possesso questo cantiere dalla pubblica amministrazione. Era già stato chiesto all'operatore economico che sta qui in piazza e a tutt'oggi non ce l'ha ridato, per cui dovremmo a nostra volta ricorrere alla giustizia stessa per farci ridare le chiavi.